La figura di Edison è profondamente legata alla figura di un altro grande inventore, purtroppo a tutt'oggi sconosciuto e il cui lavoro è passato assolutamente inosservato, il francese Charles Cross. Charles Cross era un poeta, ma anche un inventore, è considerato uno dei padri della fotografia colori e fu lui e non Edison il primo a brevettare una macchina che permettesse di registrare i suoni e che fosse poi in grado di riprodurli questi suoni. A onor del vero c'è da dire che Cross non riuscì mai a costruire uno di questi suoi apparecchi realmente suonanti perché era povero, non aveva assolutamente mezzi per realizzare questo suo progetto e di conseguenza tutta la gloria restò ad Edison. Non ci sarebbe nulla di male se non fosse certo che Edison venne a conoscenza dei suoi studi e cercò in tutti i modi di anticipare il suo brevetto per fare credere a tutti che la sua fosse la prima macchina suonante. In realtà il 16 aprile del 1877, lo stesso anno di Edison, Charles Cross portò all'Académie française un progetto della sua macchina parlante. Guarda caso si chiamava proprio fonografo come nel caso di Edison, fu poi costretto per motivazioni legali a cambiare questo nome in paleofono. Riprendendo la tecnologia sempre di Leon Scott de Martinville, realizzò sulla carta un macchinario che invece di incidere su un cilindro incideva su un disco annerito. Questo disco, nel momento in cui lo stilo di incisione toglieva il nero dal disco e creava appunto questo solco tridimensionale, permetteva il passaggio di luce chiaramente attraverso di lui, comportandosi quindi come un negativo fotografico che poi poteva essere utilizzato per una successiva riproduzione in serie delle registrazioni sonore. A migliorare l'invenzione di Edison e quindi a perfezionare il suo fonografo ci pensarono due inventori, Summer Tainter e Cicester Bell all'interno dei laboratori Bell. Entrambi insieme brevettarono nel 1881 il cosiddetto graffofono.